Musica Sala Consilina, ennesimo caso di violenza contro gli animali, avvelenato un randaggio, la rabbia di OIPA e associazione Qualla Zampa F. Approvata la rete oncologica campana, Cilento e Vallodidiano, una sola struttura. Vallodidiano, 750 mila euro in arrivo per manifestazioni e spettacoli, pubblicata la graduatoria per il triennio 2019-2021. Monte San Giacomo, 1 e 2 agosto, con la Proloco, il centro storico e le sue nazioni. Sala Consilina, Toco Film Fest, un progetto di successo. Buonasera e bentrovati al TG di Uno News. Ancora casi di violenza nei confronti dei cani randaggi a Sala Consilina. Dopo i casi di Gaia e Galileo, si registra ora un caso di avvelenamento di un cane da parte di ignoti. Il cane a cui è stato dato il nome di Jack ora è salvo, ma la rabbia dei soccorritori è tanta. Anche Amanda Cozza, dell'associazione Qualla Zampa F, condanna duramente l'atto e invita tutti ad una maggiore sensibilità e attenzione. Vediamo. Continuano a registrarsi a Sala Consilina, ma in tutto il Vallo di Diano, casi di violenza gratuita e motivata nei confronti di cani. Un atteggiamento denunciato più volte dall'OIPA, Salerno e provincia, rivolgendosi sia alle istituzioni che ai cittadini, affinché venga sollevato quel velo di omertà e silenzio che protegge chi continua, con cattiveria, ad accanirsi verso esseri indifesi. L'ultimo caso in ordine di tempo si è verificato nella serata di ieri, ma grazie al pronto intervento dell'OIPA e della dottoressa Doris Salluzzi, questa mattina è stato possibile tirare un sospiro di sollievo per il piccolo Jack, come è stato battezzato dai soccorritori. Un ennesimo caso che arriva dopo gli assurdi e dimotivati atti di crudeltà violenta, già denunciati più volte, e su cui si cerca ancora di fare totale chiarezza che hanno visto protagonisti Gaia e Galileo, entrambi rimasti vittime di spari da parte di esseri crudeli. Gaia, incinta, è rimasta vittima della ferocia dell'essere umano lo scorso febbraio. I soccorsi hanno provato a salvare la vita dei piccoli, ma non c'è stato nulla da fare, mentre Gaia, fortunatamente, dopo il triste e doloroso episodio che l'ha segnata per la vita, è riuscita a trovare una famiglia amorevole che si reprenderà a cura di lei. Un episodio che purtroppo si è ripetuto sempre a Sala Consilina. Pochi giorni fa Galileo è stato investito da un'auto e nelle cure successive si è scoperto che anche lui era stato sparato. Oggi il caso di avvelenamento, ancora una volta a Sala Consilina. Un ennesimo caso che impone un immediato intervento con l'OIPA che si rivolge direttamente all'amministrazione comunale al fine di prendere seri provvedimenti per frenare questa scia di atti violenti nei confronti di indifesi cani che continuano ad essere vittime di inaudita crudeltà. Su quanto accaduto si registra anche l'intervento di Amanda Cozza dell'associazione Quala Zampa F. Dopo le tristi e agghiaccianti storie di Gaia e Galileo, ora un altro povero cane viene avvelenato. Ma per ogni violento e incivile che fa l'oro del mare ci sono altrettanti cittadini che li soccorrono e li salvano. La crudeltà va affermata, rimarca decisa Amanda Cozza. Non si può essere tolleranti contro una violenza sempre più diffusa. Inoltre, rivolgendosi alle amministrazioni comunali e all'ASL, invita ad una più intensa campagna di sterilizzazione e rivolgendosi ai cittadini dice non fate cucciolate domestiche e non consegnate cuccioli senza microchip per evitare di alimentare il randagismo. Ci spostiamo ad Eboli, tutti a processo e 45 indagati nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato nella Piana del Sele. Il 18 marzo scorso l'emissione delle misure cautelari, ora è arrivata la decisione del Tribunale di Salerno per il rinvio a giudizio. Disposto il rinvio a giudizio per i 45 indagati dell'inchiesta su caporalato e immigrazione clandestina che portò il 18 marzo scorso all'emissione di misure cautelari e domiciliari all'obbligo di dimora e alla presentazione alla Polizia Giudiziaria da parte della Procura Antimafia di Salerno con l'operazione condotta dai carabinieri del Comando Provinciale. Il processo prenderà il via il prossimo 17 ottobre. Il blitz interessò i centri salenitani di Battipaglia, Eboli, Montecorvino, Pugliano, Olevano sul Tusciano, San Marsano sul Sarno, Ponte Cagnano, Faiano, Nocere Inferiore, Pagani, Altavilla, Silentine ed Angri ma anche Policoro in provincia di Matera e Monsummano in provincia di Pistoia. L'inchiesta è partita nell'agosto del 2015 per far luce sul fenomeno del caporalato nella Piana del Sele e ha portato ad individuare una vera e propria associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina, all'intermediazione illecita e sfruttamento di lavoratori con o senza permesso di soggiorno, riduzione in schiavitù e tratta di persone. A capo del gruppo Hassan, detto a post che gestiva il business dei migranti nella Piana del Sele, coinvolto e rimiato a giudizio anche un consigliere comunale di Eboli, Pasquale Infante, appartenente al Partito Democratico e da poco rientrato nella Sise Civica come esponente della minoranza. Voltiamo pagina, la sanità è stata approvata alla rete oncologica campana, cambiano le regole per identificare i centri abilitati, cancellando il 75% delle strutture, per Cilento e Vallo di Diano una sola struttura. I dettagli? È recente l'approvazione della nuova rete oncologica campana da parte della regione, cambia drasticamente le regole, tutto è organizzato secondo criteri scientifici standardizzati che si riducono al volume delle attività chirurgiche e sulla base della percentuale dei casi trattati sono stati identificati i centri da inserire nella rete. Finora anche le strutture più piccole con casistiche minime hanno trattato chirurgicamente qualsiasi tumore con la copertura del rimborso regionale. Ora non è più possibile, con il criterio adottato però il piano esclude il 75% dei centri. Nell'area del Cilento e del Vallo di Diano è una sola la struttura che fa parte della rete, la casa di cura Cobellis, e potrà occuparsi solo di alcuni tumori, mammella, colon, retto, pancreas, vescica e prostata. A commentare prontamente la notizia che non poteva non lasciare perplessi il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi. Focalizzandosi, afferma, solo sui numeri delle prestazioni, se si esclude la clinica Cobellis, di fatto la rete cancella ogni forma di cura oncologica nelle strutture pubbliche a sud di Salerno, di cui si parlava nei mesi passati. Il tema è delicato, i criteri e i conseguenziali risultati vanno letti con attenzione e commentati senza demagogie, ma emerge che pur aumentando determinate patologie in precise aree della nostra zona, al contempo non vi è la struttura pubblica, realisticamente vicina e corrispondente, per curarle. Sempre in tema di sanità locale, parla anche di altro Rinaldi, ritengo, asserisce, stia passando sotto traccia il tantam a colpi di comunicati stampa tra Regione Campania e Ministero della Salute in merito alla deroga dei punti nascita di Pol e Sapri. Non si riesce davvero a comprendere quale sia la reale situazione. Di certo non possiamo restare in attesa senza profondere, sia su questo punto che sull'altro, iniziative di competenza. Subito proporrò alla mia giunta di deliberare una richiesta agli enti competenti in merito ad entrambe le questioni. Ritengo, conclude, opportuna anche una conferenza dei sindaci della comunità montana del Vallo di Diano. Cambiamo argomento. Nella tarda mattinata di ieri, Consiglio provinciale a Salerno, per discutere di 14 argomenti all'ordine del giorno, in apertura alla surroga del Consigliere Robustelli, entra ufficialmente Paolo Imparato. Approvate le emozioni del Consigliere Guzzo. Si è regolarmente svolto ieri il Consiglio provinciale, che è stato anche caratterizzato da un minuto di silenzio per commemorare il giovane carabiniere Mario Cercello Rega, ucciso con 11 coltellate, per il quale si stavano svolgendo in concomitanze funerali a Somma Vesuviana. Diversi temi in discussione di un'assise, che oltre ad essere stata caratterizzata dal ricordo per il giovane eroe, è stata anche segnata dall'ingresso in Consiglio provinciale di Paolo Imparato, Sindaco di Padula, che dopo sei mesi di assenza torna a sedere tra i banchi del Consiglio di Palazzo Sant'Agostino, per effetto della decadenza del Consigliere Robustelli. Imparato quindi torna a sedere tra i banchi della maggioranza in seno al Consiglio provinciale, essendo risultato il primo dei non eletti. Dopo ringraziamenti di rito, nel suo intervento, il Sindaco di Padula si è dichiarato pronto a mettersi al servizio dell'intero territorio provinciale ed in particolare delle aree del Vallo di Diano, di Alburni e Golfo di Policastro. Si è successivamente passate alla discussione dei vari argomenti all'ordine del giorno, 14 punti su cui il Consiglio provinciale è stato chiamato ad esprimersi, tra cui le tre mozioni proposte dal Consigliere Guzzo. Approvata con voto unanime la mozione a favore delle politiche giovanili, dopo l'incontro in provincia tra i referenti dei diversi forum giovanili, in cui è stato chiesto un maggiore supporto nella realizzazione di azioni a favore dei giovani sui territori. Il Consiglio provinciale all'unanimità ha approvato la proposta di farsi portavoce a livello regionale e nazionale per chiedere di intensificare le azioni in ambito di politiche giovanili, al fine di attuare le direttive europee per intensificare la partecipazione dei giovani alla vita sociale del Paese. Approvata all'unanimità anche la mozione a favore dei lavoratori socialmente utili impiegati nelle scuole che ancora attendono il pagamento degli arretrati per invitare l'ente a farsi carico della problematica. Solo la mozione a sostegno di Radio Radicale ha fatto registrare il solo voto contrario del consigliere Dante Santoro. Andiamo a Padula. Sei anni di lavoro per restituire alla collettività un servizio primario. Domani sera alle 20 sarà inaugurata la nuova biblioteca Raffaele Romano appunto a Padula. Vediamo. Domani sera 31 luglio sarà riaperta dopo sei anni di impegno e lavoro dei giovani la Biblioteca Comunale Romano. Un evento atteso che è partito sei anni fa quando l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Imparato decise di affidare il compito della riattivazione del servizio biblioteca al Forum dei Giovani lavorando insieme nella realizzazione del progetto La Casa della Cultura. Un lungo lavoro che finalmente vedrà la luce domani sera alle ore 20 quando si terrà l'inaugurazione ufficiale della Biblioteca Raffaele Romano sita nella Certosa di San Lorenzo presso la sede dell'ex Scuola Media luogo scelto per custodire i circa 3.000 volumi che sono stati raccolti, catalogati e trasferiti nell'ambito del lavoro svolto dal Forum dei Giovani. Al Centro Culturale della Biblioteca della Legalità sita presso la Casa Museo Gioe Petrosino si aggiunge quindi ora un nuovo spazio culturale che i ragazzi hanno voluto con impegno rendere funzionale e facilmente accessibile alla comunità. Inoltre il lavoro del Forum e dell'amministrazione non si esaurisce qui ma prosegue nel futuro. Domani sera infatti il Forum dei Giovani di Padula presieduto da Annalisa Lagalla presenterà la nuova iniziativa denominata Aiutaci a crescere e regalaci un libro che prevede una raccolta fondi da destinare all'acquisto di nuovi volumi da inserire nella biblioteca che sarà inaugurata domani sera e che quindi è ancora in corso di allestimento e di ampliamento. La nuova biblioteca comunale è ricca di scaffali significativi ed interessanti che hanno visto nella loro realizzazione la compartecipazione di diverse associazioni locali immancabile naturalmente lo scaffale della legalità che vede il Comune di Padula in prima linea nella promozione dei valori della legalità e del rispetto. Alla festa inaugurale della Biblioteca Raffaele Romano saranno presenti il Sindaco Paolo Imparato l'Assessore alla Cultura Filomena Chiappardo e la coordinatrice del Forum dei Giovani di Padula Annalisa Lagalla. Oltre naturalmente ai rappresentanti delle diverse associazioni che hanno partecipato nella costituzione degli scaffali. Si appresta a chiudere gli stand la partecipatissima festa del Caciocavallo sassanese organizzata ogni anno dall'Associazione I Ragazzi di Cagliazzano giunta alla diciottesima edizione. Questa sera ultima possibilità per degustare il tipico Caciocavallo di Sassano offerto in diverse specialità per soddisfare tutti i gusti. Al classico arrostito e ai noti e apprezzati impanato e con pancetta e funghi si è giunto da questa edizione un'altra grande specialità che ha fatto registrare anche un altissimo apprezzamento alla sua prima apparizione. Da questa edizione 2019 infatti è possibile anche scegliere tra le varietà di Caciocavallo anche il buonissimo Caciocavallo crusco dal sapore delicato e particolarmente gustoso. Questa sera quindi ultima possibilità per assaggiare il nuovo arrivato del ricco menù della festa del Caciocavallo di Sassano che va ad arricchire la grande varietà di pietanze come la buonissima carne locale la buonissima pasta l'ottimo spezzatino i calzoni fritti novità della scorsa edizione e naturalmente le calde e fragranti zeppole. Voltiamo pagina 750 mila euro in arrivo nel Vallo di Diano dalla regione Campania è stata infatti pubblicata la graduatoria per i finanziamenti dei progetti legati alla promozione degli spettacoli 11 i comuni valdianesi che beneficeranno di questa iniziativa. Pioggia di fondi per la manifestazione musicale di spettacolo in arrivo nel Vallo di Diano la giunta regionale ha infatti approvato la graduatoria per i finanziamenti per gli eventi da realizzare nel corso del triennio 2019-2021 tantissimi progetti che sono stati approvati e che rientrano in graduatoria portando circa 750 mila euro nel Vallo di Diano ed in 11 comuni dell'area per la realizzazione di feste ed eventi di musica e spettacolo. Il finanziamento riconosciuto dalla regione Campania per il Vallo di Diano rientra nella programmazione per la promozione del turismo nell'ambito della progettazione finalizzata in particolare al piano triennale di investimento e promozione dello spettacolo per le annualità 2019-2020 e 2021 11 progetti che hanno ottenuto l'ok dalla regione di cui 10 da 70 mila euro relativi all'azione 3 e uno dell'azione 4 che ha ottenuto il finanziamento stabilito di 50 mila euro ad essere stati finanziati nell'ambito dell'azione 3 sono Sala Consilina per i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo Polla per il Festival del Folclore Teggiano per la manifestazione musicale Teggiano Jazz Sanza per la realizzazione del Meeting del Cervati confermato il finanziamento per luce alla ribalta di Padula così come per Sassano si vede confermare il finanziamento per la festa dell'Orchidea 70 mila euro in arrivo anche per Montesano sulla Marcellana per Mirabilie Auletta per la festa del Bianco Tanagro e per Tosa per il Negro Festival Per il Comune di Sant'Arsenio in arrivo 69 mila euro per la festa e i colori dell'estate finanziato nell'ambito dell'azione 4 anche il progetto di Monte San Giacomo Grotta Briganti e Cacio con fondi in arrivo per 50 mila euro Ora ci fermiamo ci sono un po' di consigli per i vostri acquisti poi ci ritroviamo tra poco Bentornati alla seconda parte del nostro TG estate a Monte San Giacomo prosegue con successo tanti gli eventi organizzati dalle varie associazioni locali giovedì e venerdì tocca alla Proloco ha pensato ad un tour gastronomico internazionale tra i vicoli del centro storico Un tour gastronomico internazionale che si snoda tra i caratteristici vicoli di Monte San Giacomo ad organizzarlo la Proloco preseduta da Chiara Lisa che giovedì e venerdì prossimi omaggerà la cultura culinaria dei paesi in meta di emigrazione di tanti san giacomesi due giorni di cibo e musica con l'evento il centro storico e le sue nazioni viaggio di sapori senza confini il percorso culinario parte da Largo Radio Libere 1976 in via Michele Aletta con lo stand Italia a dare il benvenuto per poi interessare tuttavia Napoli dove si troveranno le specialità locali di Monte San Giacomo la piazzetta nei pressi della chiesa di San Nicolo ospiterà lo stand del Sud Africa e poi fino giù alla piazzetta Belvedere trovando lungo la strada i piatti tipici di Svizzera Germania Stati Uniti Austria Spagna e infine Brasile una fusione di culture culinarie pensate dalla Proloco per far conoscere i paesi che hanno accolto i tanti san giacomesi in giro per il mondo e per consentire anche a chi è emigrato e in questo periodo è tornato in paese attraverso i piatti tipici della tradizione non mancherà la musica protagonista assoluto delle due serate il sassofonista Cristiano Fernicola un artista non classificabile in un unico genere il suo percorso è una continua ricerca di nuove sonorità passando dalla musica leggera a quella jazz e blues e approdato di recente alla Deep House ma ce n'è per tutti i gusti tra i vicoli l'energia i ritmi dei Mistura Manera giovedì per un tuffo nella cultura musicale brasiliana mentre venerdì il coinvolgente desuberante spettacolo itinerante della Vaga Band che con i suoi 12 giovani musicisti vagabonderà tra le hit di maggiore successo anche quest'anno grande successo per il decimo concorso nazionale di pitture estemporanea Scorci di Padula che si è tenuto domenica scorsa tanta la soddisfazione espressa dal circolo Carlo Alberto che lo ha organizzato grande successo di pubblico e di critica al decimo concorso nazionale di pitture estemporanea Scorci di Padula che si è tenuto domenica scorsa ben 24 pittori provenienti da varie regioni del centro sud Italia si sono ritrovati coinvolti nell'evento organizzato dal circolo sociale Carlo Alberto 1886 nonostante l'inclemenza del tempo gli artisti sono riusciti a lavorare dando sfogo al loro talento espresso attraverso bellissime opere che hanno messo in risalto tutte le bellezze del centro storico di Padula molto impegnativo è stato il lavoro della giuria preseduta dal consigliere Rosanna Boveferrigno per la scelta delle otto opere da premiare il vincitore della decima edizione di Scorci di Padula è stato Giuseppe Pelosi di Avellino al secondo posto José Francesco Camerota di Atena Lucana al terzo posto Antonio Lettieri di Caserta premio speciale Banca Montepruno ad Antonio Mazziale di Campobasso premio speciale Tubifor a Ferdinanto Sapio di Casoria premio speciale Parco Nazionale del Cilento Vallodidiano e Alburni a Fabio Castellaneta di Taranto premio speciale Comunità Montana Vallodidiano a Michele Inno di Isernia e premio speciale Città di Padula votato dai cittadini presenti alla manifestazione a Giuseppe Pelosi di Avellino al termine della serata grande soddisfazione è stata espressa dagli amministratori dell'antico e storico circolo padulese che hanno voluto indirizzare un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione Parliamo di cinema è stata un successo in termini di contenuti e di partecipazione l'edizione 2019 del Tocco Film Fest che ha animato il centro storico di Sala Consilina nello scorso fine settimana corti di qualità e grandi ospiti Lo scorso fine settimana c'è stato il Tocco Film Fest nella Chiazzaredda di Sala Consilina ha confermato anche quest'anno di essere un progetto di successo appassionato e portato avanti da sei anni da un gruppo di amici Francesco Calicchio Luigi Dauri Alex Ferricelli Gianluca Pacili e Giovanni Antonio Silverio il loro interesse per il cinema e il desiderio di stimolare un necessario fervore culturale li ha portati ad ideare la rassegna cinematografica di cortometraggi nazionali e internazionali il cui tema quest'anno era fusioni la sostanza della Kermes corti di qualità e grandi ospiti del calibro di Nanni Moretti a Sala Consilina per presentare durante la prima serata il suo ultimo docufilm dal titolo Santiago Italia altro atteso ospite del festival è stato domenica l'astronascente l'attrice Linda Caridi due presenze molto apprezzate dal folto pubblico che ha preso parte alle due serate tra i contenuti del festival c'era la proiezione dei cortometraggi erano dieci giudicati da una giuria composta da esperti del settore Gianfranco Pannone Marta Giovannetti e Nicola Calandrello chiamati al difficile compito di decretare i vincitori del concorso a vincere come Best Short Movie The Lay e poi come Best Direction All Discreature Best Animation Short Movie a Demonstration of Brilliance in 4X e la Special Mention Tochissimo Award è andata a Ananimate molto soddisfatti dell'edizione 2019 si sono detti gli organizzatori complimenti hanno dichiarato i registi dei capolavori proiettati che hanno contribuito a creare la magia del nostro Toco Film Fest un grazie particolare ai giurati hanno concluso che hanno avuto largo compito di scegliere i vincitori e riempire di contenuti il nostro tavolo e i Toco Talk ed è tutto per questa edizione vi ringrazio per averci seguito vi invito a continuare a restare con noi augurandovi un'ottima serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti